Con rammarico, avendo voi messo la fiducia, non è stato nemmeno possibile discutere gli emendamenti che ho proposto come pacchetto del mio giustizio. Per adesso a voi non interessa risolvere i problemi, ma avere medaglie di latta da esibire sui social e soprattutto prevenire ogni possibile distenso che già forte serpeggia all'interno dei vostri gruppi. Tutti voi, sia il Governo che il Parlamento, state tradendo quando avete predicato per anni. Nessun escluso, né chi sta zitto e obbedisce, né chi rilascia dichiarazioni in tempista e poi si adegua, né chi critica sempre a tempo scaduto quando le decisioni sono state prese altrove. Sta diventando un'abitudine quella della fiducia. Quando si inizia e già successa ai vostri predecessori è difficile smettere. In fondo è molto più semplice costringere che convincere. Chiedetevi però, quanto tempo potete durare se già dopo pochi mesi ogni voto segreto vi terrorizza? Urlavate in piazza o restare in trasparenza? Ora vi invitate a chiedere di non minimizzare indagini su milioni di euro. E vale lo stesso per i colleghi leghisti? Per il contratto, potrete a favore. Bene, questo significa votare la fiducia per voi. Coprire con un obbligo ipocrita qualsiasi condorsione politica rispetto agli ideali che avete sempre difeso e sostenuto. Per questi motivi, con dispiacere, annuncio il voto contrario di liberi e uguali alla fiducia. Grazie.